Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà domani, martedì 17 novembre, dalle ore 12 alle ore 12.30 per l'approvazione del processo verbale, le comunicazioni del Presidente, la convalida degli eletti, le dimissioni di consigliere regionale. La seduta proseguirà dalle ore 13 alle ore 15 per la surroga di consigliere regionale, le comunicazioni in merito alla Costituzione dei gruppi consigliari, l'esame della delibera dell'Ufficio di Presidenza numero 2 del 4 11 2020, variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2022, proposta al Consiglio, se acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di istituzione di commissioni consigliari speciali.